Ciao amore, ma che c'è la zampetta che fa male? Sì, gli fa male la zampetta. Allora, questo è il cane che ci hanno segnalato da stamattina qui alla Decathlon di Gioia e Tauro. Comunque, noi siamo venuti a prenderlo perché abbiamo avuto due o tre chiamate. Vorrei dire alle persone, comunque questo è rivolto alle volontarie più che altro. Lui è buonissimo, si ha la zampa che gli fa male, sì. Questo cane è da stamattina qua. Mi rivolgo alle volontarie di Gioia Tauro, Palmi, perché non alzano mai il culo per andare a prendere i cani. L'associazione di Taurianova non può prendersi cura di tutti i cani. Ma questo serve al combattimento? Ecco, questo è un cane massacrato infatti. Non possono chiamare sempre il randaggio della ferrovia, sempre e comunque, perché noi non diciamo mai di no, però siamo pieni, pieni di cani e questo non va bene. Quindi per tutte le volontarie, mi raccomando, Gioia Tauro, Palmi, che alzano il culo e vengono a prendere i cani che sono nelle loro zone, senza rispettare a noi, ok? Comunque, noi ora l'abbiamo recuperato. Lo portiamo con noi e mi raccomando, chiamate ancora. E voi, volontarie del posto, rimanete dove siete. Andiamo dentro, bello mio, vai, sali. Sali, Gioia, vai. Dai. Vai, bello mio, vai. Andiamo. Non ce la faccio, non ce la zampa. Aiuto lì qua. Dai, sali, bello mio, che ti portiamo al sicuro, dai. Qualcuno l'ha visto da stamattina, riesci tu a farlo salire sul furgone? Vi passiamo qualche croccantino? No, croccantino no, no, se riesci a salirlo sul furgone, così lo portiamo al rifugio. Dai, domani dal veterinario. Dai, sali, bello mio, vai. Non riesci. E tu, bravo, amore. Vita. Io non lo so. Ci sono i cuccioletti, hai visto, amore? Ho credito anche dei cani qua. È stato credito? E lui stava bene. E dico, ma le volontarie le avete chiamate della zona? Non vengono. E sei tu che mi hai chiamato stamattina, comunque? No, mi salco l'era. Tu? Io ho chiamato l'AS veterinario a Reggio Calabria, ho mandato il numero dell'AS di Palmi, ci abbiamo risposto, mi hanno detto, li provate chiamarete un'ora. Io ero disposto a pagare le spese veterinari, ma almeno trovare qualcuno che se lo venisse a prendere per visitare. Niente, guarda, purtroppo la situazione è questa, solo noi chiamano. Noi abbiamo il doppio dei cani che dovremmo avere. L'andaggio è la carrovia, noi siamo. Ah, ok, non sa volendo. No, quale è? Non lo so, tu sei quella che mi ha chiamato. Ha chiamato un esito negativo. Sì, ma è tutti un esito negativo. Ma gli ho detto, non vogliamo, cioè questi qua li diamo pure noi da mangiare, li vediamo bene o male, stanno bene. Certo. Non è che cerchiamo lo stallo e non abbiamo che fare, capiamo, però lui stava male, buttato qui, e abbiamo detto solo per capire. Infatti, infatti. No, comunque, questo è perché, giustamente, le volontarie di Gioia Tauro, Palmi, nessuno fa niente. No, ma me, ma si è girata proprio in veterinario, la dottoressa si è girata a maglietta. Ciao, amore mio. Siete sovvenzionati da nessuno. Siamo semplicemente aiutate dalle persone del nord. Non ci aiuta nessuno, né il sindaco, né il comune, nessuno, né la regione, nessuno. Dai, vieni. Quindi noi, quello che possiamo fare, facciamo, spendiamo un sacco di soldi per i cani. Dai, riesci, non riesci a salire. Se ci lascio un suo contatto, aiutiamo noi per... Sì, te lo do il dopo, certo. E perché non mi sembrava neanche corretto, capito? Perché chiamano sempre solo noi, noi non gli lasciamo i cani. Io sono arrabbiata con lì al telefono, ma non per lei, signora, per un attimo. Ok, allora, noi abbiamo recuperato il piccolino, adesso lo facciamo salire sul furgone, lo portiamo dal nostro rifugio, e poi domani visita veterinaria, come sempre. E basta. Mi sembra di aver detto già tutto, ok? Ciao a tutti, e ciao, e grazie. Per chi ci segue ci sostiene sempre, grazie.